A noi sanitari sono state attribuite tante etichette, eroi, untori, novax, complottisti, anche latitanti, ma non siamo nulla di tutto questo. Inizia così la lettera di Pamela Piccioni, 48 anni, infermiera da 26, sospesa dal servizio, nell'area Vassa 1, perché non vaccinata. Ci hanno aditato con superficialità, ha proseguito, senza mai ascoltare realmente le nostre voci. Vogliamo solamente che ci sia riconosciuto il diritto di lavorare, come abbiamo sempre fatto, perché siamo le stesse persone di un anno fa, anzi anche migliori. Pamela è stata per otto mesi in prima linea, senza mai tirarsi indietro, durante il periodo difficoltoso della pandemia. La sua storia, nell'era Covid, cominciò all'inizio dello scorso anno. A febbraio 2020 sono stata messa in quarantena per un contatto da positivo. Da lì ho iniziato a informarmi come potessi aiutare in questa emergenza. Sono ritornata al lavoro senza un tampone, perché quella volta non era previsto, e mi hanno fatto un corso di addestramento. La cosa che tengo a dire è che in quel periodo l'azienda sanitaria aveva fatto, creato un'equip di sanitari e di professionisti veramente eccellenti, che si sono veramente spesi in questa emergenza, lavorando notte e giorno, e per cui hanno gestito molto bene quel periodo, e nulla da dire. Ipamela, originaria di Iesima, residente a Pesaro, si occupava dei tamponi molecolari. Ero io quella che andava a casa delle persone a tutte le ore, ci ha raccontato. Indossavo tuta, casco, guanti e mascherina, facendo attenzione a non sprecare nulla, perché i dispositivi di protezione erano contati, talvolta in caso di necessità e urgenza anche riciclati. E così, bardata, entravo a casa dei pazienti. Ho lavorato fino a 18 ore al giorno, ha precisato, e guidato l'auto per chilometri e chilometri, instancabilmente, con pioggia, neve, nebbia, ma ero contenta di dare il mio supporto. Erano veramente centinaia le persone che lei tamponava ogni giorno a Fano, Pesaro e Urbino, ha visto anche comunque delle scene poco piacevoli. Esatto, entrando a casa della gente, sfortunatamente mi sono imbattuta in persone che erano terrorizzate, con la paura, persone anche delle volte arrabbiate, ma soprattutto sole, disperate. E quindi in quel periodo io non solo mi apprestavo a fare il tampone, ma sinceramente chi voleva, mi sono sempre soffermata a parlare con loro, per un aiuto psicologico, perché in quel momento loro avevano bisogno di un contatto e di una parola. E sfortunatamente le storie di tutte queste persone avevano un filo conduttore, che era la solitudine, l'abbandono nel periodo della malattia, ma anche nel periodo della morte di un loro caro, quindi non sono state supportate per nulla, e soprattutto molte sono state lasciate con uno scellerato protocollo di tachipirine e vigilattesa. Questo mi faceva soffrire, ha spiegato l'infermiera. Poi, di lì a poco, hanno aperto anche i drive a Fano, Pesaro e Urbino. E durante il suo lavoro si è accorta anche di alcune anomalie? Sì, ad esempio le persone che facevano il tampone più volte, spesso quel tampone veniva comunque sempre riconteggiato come un nuovo accesso, quindi sia positivo o negativo era sempre comunque un nuovo accesso. E quindi andavano ad aumentare i positivi giornalieri, anche se era sempre la stessa persona? Sì, quella volta era così. Tampone che all'inizio non veniva imposto ai sanitari per svolgere il proprio lavoro, però ora, fa notare Pamela, il vaccino che non è immunizzante e diventa indispensabile. Tutto ad un tratto si preoccupano e lei, che non lo ha fatto, è stata sospesa dal servizio. Allora, quando ho ricevuto la lettera mi sono trovata a essere un po' delusa, amareggiata, ma nello stesso tempo anche preparata e dispiaciuta. Perché a un certo punto io non era più il lavoro che volevo fare, ma ero solamente un mandante di un protocollo, perché non lo facevo più con umanità e con amore, visto che venivano tamponate anche le persone asintomatiche, solamente facendo riferimento a un protocollo e perché si doveva fare. Quindi a quel punto la mia coscienza un po' si è ribellata, e quindi sono stata anche male, con attacchi di panico, insonnia, perché davvero io ci ho messo sempre tanto cuore, però a quel punto non ero più io. Volevo raccontare la mia storia, ci ha detto, per dire alle persone di non avere paura del diverso, che io sono sempre la stessa persona che è venuta in aiuto nel momento del bisogno e che il mio lavoro lo faccio con serietà, professionalità e passione. Non può un vaccino essere più importante del merito e della persona, non può un vaccino essere un'arma per discriminare e creare gruppi di lavoratori di serie A e di serie B, non può un vaccino decidere che certe persone siano migliori di altre, così come non può, ha concluso l'infermiera, togliere lavoro e dignità a madri e padri di famiglia. In tutta Italia siamo tanti sanitari sospesi, tanti che si sono autosospesi, sfortunatamente nessuno ne parla, fanno tutti finta che vada tutto bene, invece così non è. Questa è una battaglia per la libera scelta, ma anche una battaglia di umanità e di civiltà, perché siamo persone e dobbiamo ritornare ad essere uniti e ad amarci ed è un messaggio di solidarietà questo che voglio dare per tutti e non odiarci più.